Il Catanzaro per chiudere in bellezza un mese d'oro. La Regina per mettere dietro le spalle un novembre nero. Catanzaro vs Regina recupero dalla quinta giornata di campionato. Un derby che sembra già scritto sulla carta. Da una parte la squadra di Gaetano Oteri con l'evento in pop reduce da tre vittorie di fila. Cinque risultati utili consecutivi. Quelli che di fatto ha messo insieme in questo primo scorcio di campionato la formazione amaranto di Roberto tocevoli con il segno più. Solo in cinque partite delle dieci disputate. 54 i precedenti conducono gli amaranto con 20 successi a 17 e poi tante x. Nell'ultima occasione il 30 dicembre 2017 si impossero gli amaranto 1 a 0 con il gol di in bianchi mano. Il 52esimo fu uno dei pochi sussulti di una stagione senza lode e senza infamia arriva allo stretto a marcord che poco conteranno stasera. Squadra che vince non si cambia in casa giallorossa qualche novità invece tra gli amaranto che scenderanno in campo con viola dal primo minuto al centro dell'attacco. Al ceravolo fisico d'inizio alle 20 e 30 arbitra il signor Riccardo Anna Loro di Collegno. Alessio e buon passo per la CNews 24.